Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo ruby e oggi voglio parli di un qualcosa che ieri mi ha fatto girare le balle in una maniera spropositata allora adesso le telenovelas si occupa anche di tematiche come l'omosessualità e questo ovviamente ha scatenato i perbenisti per difenderla tutela dei bambini quando poi magari alla playstation, all xbox ci hanno episodi di violenza e quanti ce n'è però quando si parla di guerra, violenza e usare la donna come oggetto puramente sessuale va bene quando invece si parliamo di due persone che si amano e quindi parliamo di amore tra persone nello stesso sesso e ricordiamo che l'amore non ha né sesso né età e quanti ce n'è fa schifo perché siamo in Italia, in Italia va come la deve andare dopo le polemiche ci sono state ma che schifo, i bambini guardano mia figlia mi ha chiesto e io ero un po' imbarazzata da chiedere eccetera eccetera ho capito, allora innanzitutto esiste il telecomando quindi tu cara madre stile anni 50 prendi il telecomando e giri il canale se poi, se per caso mai tua figlia che sicuramente sarà molto più avanti di pensiero rispetto a te e ti fa delle domande e tu da persona intelligente che dovresti essere cosa che non sei, gli spieghi che quelle due persone si vogliono bene, punto non è che bisogna entrare nel lato sessuale quelle due persone si vogliono bene, punto cosa c'è di male? Niente eccetera eccetera però aveva comunque poi scoperto il putiferio e ieri è scoperto il putiferio perché praticamente in un posto al sole c'era praticamente questo cinquantenne che ci stava a provare con Sandrino che è il protagonista omosessuale che sta a casa della sua amica e lui si è avvicinato e gli ha toccato una gamba praticamente stava parlando con Marina del fatto delle barche dove ha acquistato la barca eccetera eccetera e si è allontanato un attimo per rispondere al cellulare e questo qua ha fatto un po' il marpione e la gente ha usato termini come pedofilia allora io penso che in casa nostra tutti abbiano una cosa chiamata dizionario o tutti abbiano una cosa chiamata motore di ricerca cioè internet motore di ricerca Google allora quindi se io non so il significato delle parole al posto di usare delle parole alla cazzo di cane mi vado ad informare se io guardo la televisione e non so che cosa vuol dire un termine o non so per esempio su quel determinato personaggio io che sono una persona intelligente credo vado ad informarmi vado a mettermi su internet motore di ricerca digito pincopallo e mi informo invece pare che la gente usa dei termini alla cazzo di cane perché? perché ha fatto schifo vedere uno di 50 anni che ci provo con un 18enne e l'ha definito pedofilo allora vorrei dire a queste persone che la pedofilia magari che non lo sapesse è quando una persona adulta una persona che raggiunge la sua maturità sessuale però vabbè la maturità sessuale è una cosa oggettiva perché biologicamente parlando si raggiunge intorno agli 11-13 anni però è una cosa soggettiva perché magari ci sono persone che sviluppano la propria sessualità in altre... più avanti comunque la... quindi è una persona adulta che ha delle fantasie erotiche su un bambino il bambino c'ha 8 anni ok? il personaggio della... il personaggio di Sandrino ha 18 anni e per la legge italiana quando tu arrivi a 18 anni non sei più bambino a parte il fatto che biologicamente parlando non lo sei più da anni però a 18 anni tu sei maggiorenne maggiore età prima era 21 poi l'hanno spostata a 18 quindi sei maggiorenne e quindi una volta che hai 18 anni tu puoi fare quel cazzo che vuoi ovviamente che se sbagli devi pagare nei confronti della legge ovviamente perché non... cioè perché non sei minorenne e quindi devi prenderti le tue responsabilità invece e quindi il... quindi il diciottenne che decide di stare con una persona di 50 anni lo può benissimo fare perché è consensiente è consensiente invece un prete magari pedofilo di 60 anni che praticamente ha delle fantasie sessuali su un bambino di 8 anni quella si chiama violenza perché il bambino non è consensiente del fatto che la persona... delle zozzerie che la persona gli sta facendo abbiamo capito forse il termine? allora una persona arrivata a 18 anni può scegliere di fare quel cazzo che ne ha voglia un bambino di 8 anni non ha ancora la capacità di capire che cosa sta succedendo quella è la differenza non confondiamo omosessualità con pedofilia perché questa è veramente una vergogna ed è una cosa veramente schifosa perché la gente usa dei termini così alla cazzo è come se io oggi vado a fare un giro in centro vedo una tizia con una minigonna e una scolatura e dico che quella è una puttana senza sapere che cosa comporta il termine puttana perché in quel momento io sto offendendo qualcuno come quando vedo una persona di 50 anni che ci sta provando con un ragazzino di 18 definisco pedofilo io sto offendendo molte persone ok? quindi la pedofilia è una cosa schifosa che deve essere condannata è un disturbo psicologico che deve essere curato eccetera eccetera l'omosessualità non è una malattia e non deve essere curata che poi non capisco allora quando vediamo in televisione la tizia di 20 anni che sta con il con il magnate sessantenne gli va bene e no perché sai la donna ha un qualcosa che gli ricorda il padre di qua e di là eccetera eccetera quindi va bene quando lo fa qualcuno è un pedofilo cioè io veramente non capisco oltre al fatto di usare i termini così impropriamente alla cazzo usare due pesi due misure allora una persona di 50 anni può stare con un ragazzino benissimo di 18 al 18enne gli piace perché gli piace la maturità gli piace il fatto che comunque ha una stabilità che non è una griglia per la testa eccetera sono cazzi loro come una ragazza di 20 anni può stare benissimo con una persona molto più vecchia di lei perché gli piace perché gli ricorda la stabilità perché gli dà la stabilità perché gli dà la sicurezza eccetera io la differenza non la vedo in quel caso però non deve essere cos'è quella pedofilia cioè no lì non è pedofilia lì va bene perché va bene no lì è colpa della donna perché la donna è un po' è un po' così vuole cercare sempre il vecchiaccio con i soldi col Ferrari di qua e di là perché figuriamoci se non possiamo colpevolizzare una ragazza che sta uno con uno di 60 anni no per l'amor di Dio adesso parliamo della della Lori del Santo allora Lori del Santo che si mette che lei ha 50 anni si mette con uno che ne ha 24 magari l'ho andata a prendere fuori dalle superiori quella non è una pedofila no quella eh no quella no perché comunque vabbè ragazzino di qua di là no quella non fa schifo cioè fa schifo solamente il 50enne che poi è finito vabbè il 50enne che ci provo con il 18enne e viene definito pedofilo perché quella lì non è pedofilia no perché cioè nel momento in cui una persona è consenziente c'è la la consensualità è consenziente di quello che sta facendo può fare nel momento in cui una persona non è consenziente e quindi non 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 vuole determinare con una persona quella si chiama violenza se una persona di 50 anni ha delle fantasie erotiche su una bambina o un bambino perché forse è lì il fatto no perché allora il fatto che comunque il pedofilo abbia delle fantasie nei confronti dei bambini maschi allora è pedofilo e anche omosessuale no quello è solamente pedofilia ok quando il sessantenne sta ha delle fantasie su un bambino di otto anni quella si chiama pedofilia ok cioè usiamo i termini per per quelli che sono e non e per condizioni di causa e andiamo a vedere se magari non conosciamo i termini di di informarci perché veramente io quello che ho letto ieri è stato veramente di uno schifo tremendo e quella purtroppo è gente che magari ha anche dei figli e che procrea e che va anche a votare rendiamoci conto allora io prima involontariamente ho parlato di preti pedofili perché c'è stato un grande boom di case di pedofili all'interno della chiesa cattolica ecco io vorrei che passasse il messaggio che comunque non bisogna fare di ogni erbo un fascio ci sono ci sono le persone buone e ci sono le persone marce all'interno di una comunità è sempre così c'è la parte buona e la parte malvagia quindi io non non vorrei che passasse magari un mio comportamento anticlericale se non sapete cosa vuol dire anticlericale esiste google ok non vorrei far passare questo comunque io sono veramente io ho trovato veramente schifosa schifosa questa cosa e volevo condividerla con voi quindi cari cara gente se non sapete i termini al posto di usarli alla cazzo di cane e magari offendere qualcuno per piacere andatevi ad informare ok bene il mio video è finito e vi do appuntamento alla prossima volta ciao ciao Grazie a tutti.